La sigaretta L'immigrato in Italia è simile ad una sigaretta. Si acquista, si scambia, si regala. Un padrone lo accende per sé ed è qui tutto il suo lavoro. Poi tocca alla sigaretta bruciare, soffrire, consumarsi per il piacere del saddico e anche per il profitto del fortunato tizio. Vede l'intera sua vita volare in fumo per un estraneo che tira e tira senza pietà consumando l'essenza, cancellando l'esistenza per lasciare solo fumo e cenere. Se se ne stanca, butta la metà, assolutamente inutile per chiunque altro o per sé stessa. Così, dopo anni di mera e mero sfruttamento, come un paniere rotto, diventato metà di sé stesso, l'immigrato si congeda in nome della legge. Viene mandato a morire in un paese che non lo riconosce. in un paese che stenta a riconoscere, a meno che prenda coscienza e lotta per i suoi diritti e per quelli dei suoi vicini. L'immigrato in Italia è simile a una sigaretta.